Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io, sì, sono un tecnologico ma sto arrabbiadissimo Sto arrabbiadissimo perché? Perché sto arrabbiadissimo? Perché non va bene, perché non va bene Perché non va bene, mannaggia santa, non va bene Che questi gobbi si servono sempre con un gol a fortuna alla fine Guarda la guarda Guarda la guarda Non dico che non sia forte Alvaro Morata Anzi, per tutti quei cessi che stanno nella Juve Perché devo usare questo termine, scusate Non l'avrei mai voluto usare ma lo devo usare perché sono questo Morata è l'unico che si salva Quindi Grazie, grazie nel che, ha fatto il gol? Ma no, grazie Ma mandalo a quel paese, no? Grazie Ardardi, gioventini del cavolo, guarda Partita dominata dal Parma, partita dominata dal Parma Arriba sulla sirena quel gol di Morata Allegri Complimenti non te li faccio Però ti posso dire che c'è una bella fortuna Grande, grande, grande Non sai manco quanta Ragazzi non va bene perché guarda qua Grande Parma per carità Ma loro non possono vincere sempre Non possono salvarsi sempre Quando ci sono le partite comprate Vincono 7 a 0 Quando sono regolari Arriva il gol a fortuna sulla sirena E vincono 1 a 0 Nooo Perché tu per vincere una partita Te la devi meritare, la devi dominare Devi fare bene almeno un tempo Loro non hanno fatto bene nemmeno mezzo tempo Possesso palla Ma l'hai visto? Molto più il Parma E se i dati dicono che non è così Seguite a me, seguite a Technology Che c'ho più ragione io dei dati Mettete bella Raul Sentite che dicono questi Che non capiscono niente di calcio Non va bene ragazzi Non va bene, non va bene E io L'1 febbraio Ricominciamo il mese bene Con un bel 7 a 0 Anche di più Facciamo 8 E dal Napoli in Coppa Italia Rifacciamo una bella sorpresa Perché non va bene, non si può Perché noi dobbiamo andare in finale contro la Juve Ora questo è il mio obiettivo In finale contro la Juve Così vedete cosa significa Eh voglio la mia Coppa Italia Maddo ma che vent'anni che ci provo In giro Cioè ma ma da che ti fa? Ma per favore ma Bene ragazzi per oggi è tutto Da qua da Technology Forza Inter Sempre Forza Inter Sempre Forza Inter Sempre grande Maggio E speriamo che questa Juve Un giorno perderà contro il Parma Contro il Sassuola Contro una piccola squadra Ne facciamo vedere Vabbè Ma Ne lo facciamo vedere noi E questo Lo riminciamo noi Lo riminciamo noi E questo Ricomincerà a splendere Grazie da Technology Alla prossima Forza Inter E a basso Juve Sempre Per la Grazie.